Ciao a tutti ragazze, bentornate sul mio canale, grazie per aver cliccato su questo video, io sono Veronica e questa è Veronica Mostra Avon. Allora ragazze, oggi video spacchettamento della campagna numero 14, la campagna di marzo. Lo facciamo subito, questo spacchettamento, nelle prime settimane, in quanto ci sono state molte richieste questa volta. Lo spacchettamento di oggi prevede anche qualche novità che non vi ho mai fatto vedere in video, quindi sono super emozionata. Iniziamo subito, senza perdere tempo. Terrò sotto mano anche il catalogo di riferimento, in modo tale da farvi capire anche di che prezzi e offerte stiamo parlando. Iniziamo con le acque profumate, queste acque sono ormai un best seller perché comunque vengono apprezzate tantissimo non solo come acque profumate per il corpo, bensì anche per l'ambiente. Due acque profumate a 4,90€, ovviamente è scelta tra diverse profumazioni. La cliente ne ha ordinate tre alla magnolia, che è una delle profumazioni che apprezzo anche io maggiormente, e poi una hula 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 hibiscus, anche questa qui molto molto buona. Ve le straconsiglio ragazze perché veramente sono assolutamente delicate, ma lasciano una profumazione molto molto piacevole sia sul corpo che volendo anche nell'ambiente. Altra offerta carina era circa i doranti roll-on. era possibile acquistarne due a 3,90€. In questo caso sono praticamente due doranti che hanno durato a 48 ore, sono entrambi da uomo, questo qui è quello che non macchia. Quest'altro invece è per avere una freschezza a lunga durata. Sono ovviamente fragranze prettamente maschili, quindi abbastanza speziate, belle, fresche e intense. Poi, sempre rimanendo in tema profumo d'odorante, a pagina 70 c'era l'offerta di tre prodotti della fragranza soft mask a 12,99€. I prodotti in questione sono il d'odorante roll-on della profumazione soft mask, il d'odorante o comunque spray per il corpo e poi anche l'eau de toilette, che non vado a spacchettarvi, ma comunque vi metto qua di fianco semmai l'immagine del profumo spacchettato. Tre prodotti a 12,99€. Pagina 8 a 19,99€. Il set è composto dal due occhi, il gel crema per il contorno occhi con effetto lifting, che è questo qui che vedete, e in abbinata, sempre della selezione Anew, il siero pressato, clinical lift and firm, che va benissimo per tutte le età, questo qui. In abbinata ovviamente per un effetto liftante del viso e anche in più, diciamo, in profondità per quanto riguarda la zona degli occhi. Per i piedi della linea Footworks, questo qua non era un prodotto, diciamo, in offerta speciale, però ve lo faccio vedere perché sono dei prodotti, secondo me, molto validi, rinfrescano veramente tantissimo il piede, oltre che lasciare un buon odore, aiutano anche ad alleviare comunque la stanchezza, proprio perché hanno questo effetto molto rinfrescante. Nello specifico questo qui va bene anche per le scarpe, quindi ci sono sia quelli esclusivamente per i piedi, ma anche questi, come questo qua, che vanno bene anche per le calzature. Ci spostiamo su un emolliente labbra, si chiama Nourishing Lip Oil, della tonalità Blossom, questo emolliente labbra ve l'ho fatto già vedere, è super idratante, ha un effetto gloss, vi faccio vedere anche qui, sulle labbra, non è per niente forte come tonalità, anche se lo vedete qui, bello fucsia, in realtà non si vede assolutamente il colore, è molto delicato, e ha all'interno olio di jojoba e di avocado, che aiuta appunto all'idratazione delle labbra. Questo veniva a 5,50€. Passiamo ad un altro prodotto che è stato apprezzato moltissimo, ed è questa palettina, la Radiant Rose, che trovate anche a pagina 12, a 12,99€, eccola qui, ve la faccio vedere spacchettata, ed eccola qui ragazze, super super carina, veramente molto bella, con anche uno specchio molto grande, pazzesca, questa qui ha riscontrato veramente tanto successo, non solo per le tonalità che sono piaciute tantissimo, non solo per il packaging che è molto solido ed è provvisto anche di questo bellissimo specchio, ma soprattutto perché all'interno queste cialdine, insomma, questi ombretti, presentano dei finish diversi tra di loro, quindi non avete solamente il classico opaco e il classico glitterato, avete anche dei finish frost, dei finish metallizzati, insomma potete veramente sbizzarrirvi con questa palette. Come vi ho fatto sapere su Instagram, l'azienda in questo periodo mi ha inviato altri prodotti da testare in anteprima, tra cui anche lui. Tra l'altro io ho acquistato anche il set in anteprima, composto dallo spray borsetta, profumo da borsetta, l'eau de parfum da 50 ml e anche la lozione corpo. Questo qui è un nuovissimo profumo che uscirà nella campagna 15, quindi nella prossima campagna, e si chiama Far Away Royale. È un nuovo profumo della selezione Far Away, che è sempre una garanzia, insomma. non ve ne parlo ancora perché farò un video dedicato proprio a questo prodotto, visto che mi è stato gentilmente inviato dall'azienda. Altri due profumi, sempre della selezione Far Away. Il primo è il Far Away Glamour, non vado a spacchettarvelo ragazze, vi metto qua di fianco la foto. L'offerta speciale che coinvolgeva questi profumi, eccola qui, era pagina 82-83, il secondo profumo era possibile acquistarlo a soli 11,99€, quindi il Far Away Glamour, per intenderci, veniva a 16,99€, anziché pagare allo stesso prezzo il Rebel, la cliente ha pagato solamente 11,99€ il secondo. Sono due profumi fantastici, per chi ama le fragranze speziate, intense, calde, questi due profumi qua sono veramente una conferma, quindi se siete delle clienti, volete provarli, fatemelo sapere, scrivetemi nelle mie pagine social, oppure qui sotto in descrizione trovate anche i miei riferimenti, il mio shop online, fatemi sapere, se avete bisogno dei campioncini, sarò assolutamente disponibile nell'aiutarvi. Andiamo avanti, vi faccio vedere un prodotto che ancora non vi avevo mostrato, ed è questo detergente per il viso, di una nuova, diciamo, selezione recente, che si chiama Avon French Grape, praticamente è un due in uno, è un detergente anche sfogliante per il viso, l'ho preso per me, quindi posso aprirlo, e sentire, e sentire niente, perché è provvisto di pellicolina, quindi adesso andiamo a spacchettarlo, e sentiamo insieme, buonissimo, buonissimo, mi piace un sacco, questo qua lo proveremo insieme, mi raccomando ricordatevi di seguirmi su Instagram, perché lì vi aggiorra appunto sui prodotti che vado a testare, non vedo l'ora di provarlo, soprattutto perché in questo periodo di stress, diciamo, mi sono usciti molti brufoletti, quindi voglio vedere se con l'aiuto anche di questo detergente, io possa migliorare un pochettino la situazione, andiamo avanti con il makeup, questo qui è il Flawless Liquid Foundation, nella tonalità Light Ivory, è il fondotinta della linea Avon True, mi raccomando ragazze, ricordatevi, Ivory, non può che essere molto molto chiaro, quindi mi raccomando, se siete nel dubbio, sia che siate colleghe o clienti, chiedete sempre un campioncino, perché comunque le tonalità di fondotinta, è vero che sono ben descritte sul catalogo, però bisogna sempre testarle, secondo me, per vedere un attimo come si vanno a, diciamo, a comportare una volta applicate sul viso, se ossidano e quindi tendono a scurire maggiormente, oppure se rimangono effettivamente tali. Ok, pagina 21, due matite a 7,90€, la cliente ha scelto la tonalità Enrold, che dovrebbe essere un bel verde, se non vado errando, sì, esatto, lo vedete anche da, insomma, dalla parte finale della matita, la matita è per mia mamma, quindi posso aprirla, è un bel verde, veramente molto carino, non la provo ovviamente, però se volete le foto, insomma, del prodotto applicato, basta chiedere, oppure ve la cerco già io adesso, ve la metto qui da qualche parte, in ogni caso, queste matite, come sapete già, se siete pratiche, insomma, di Avon, sono dei best seller, proprio perché hanno una magnifica scrivenza, durano tanto, sono veramente super pigmentate, quindi sono dei prodotti pazzeschi. l'altra tonalità è Starry Night, questo qui è un blu bello, bello intenso, se la trovo, metto anche la foto, di questa tonalità, ragazzi, mi trovate anche su Facebook, non solamente su Instagram, mi trovate anche su Facebook, se volete, potete contattarmi anche lì, poi abbiamo un accessorietto, diciamo, che è una pinzetta per sopracciglia, che ovviamente non vi vado a spacchettare, questa qui veniva a 2,99 euro. Poi passiamo a un set di bijoux, che si chiama Josephine, che io ho acquistato in anteprima, quindi sarà disponibile nella prossima campagna. Guardate che carine che sono le scatolette di Avon per i bijoux, veramente super super belle. All'interno avete sempre la certificazione per i prodotti, che sono adatti anche alle pelli più sensibili, ovviamente free nickel, non abbiamo all'interno nickel, e il set era composto da bracciale, orecchini e anche dalla collana, gli orecchini sono qui dentro. Non posso farvelo vedere, perché il pacchettino, insomma, è sigillato. Qui abbiamo il bracciale, con la collana, vedete com'è carina questa trama, insomma, questo intreccio. E poi questi qui sono gli orecchini, molto molto carini, veramente super carini, sembrano una frisella. Ok, quindi questo set, ragazze, lo troverete disponibile dalla prossima campagna, ovviamente siete delle clienti, lo troverete nella prossima campagna di aprile, se siete consulenti potete acquistarlo anche voi in anteprima, come ho fatto io. Infine passiamo a queste due sciarpine, veramente molto molto carine, mi dispiace non poterle aprire, queste due, sono queste qui, ok? La prima è Sharpa Leaf Print, a 7,99€, ed è questa qua, forse riuscite comunque a vedere un pochettino la trama com'è, sembra essere molto carina. L'altra invece è la Sharpa Floral Satin a 5,99€, ed è questa qui. E se riesco, se riesco vi faccio vedere anche qui la trama, molto carina, anche questa, molto primaverile. Soprattutto ragazzi sono arrivati anche i cataloghi nuovi, che vi farò vedere più avanti, in un video dedicato al Veronica Sfogliavon. È arrivato anche finalmente il catalogo casa, che non vedevo l'ora di farvi vedere, perché ci sono delle novità veramente bellissime, cioè dei completi letto, sia per grandi che per piccini, veramente super super belli. Ma non solo, qua ci sono tantissimi accessori, ad esempio questo qui è un set cavalletto, con la luce per il selfie, cioè ci sono veramente tantissimi accessori, per la casa, e non solo, all'interno di questo cataloghino. Quindi mi raccomando, ricordatevi di iscrivervi al canale, perché vi arriverà la notifica, attivando la campanellina, vi arriverà la notifica, quando usciranno questi video dedicati, proprio ai cataloghi. Ed è tutto ragazzi, abbiamo terminato questo Veronica Sfogliavon, a me è piaciuto tantissimo, soprattutto perché vi ho fatto vedere, qualche prodotto nuovo. Se è stato così anche per voi, lasciate un like, condividetelo con le vostre colleghe, con le vostre clienti. Io vi mando un grosso bacio, e ci vediamo nel prossimo video. Ciao! Ciao!